Gian Umberto Accinelli arriva al Teatro Sanzo di Urbino, si parla di api. Questa sera lo si fa con un format diverso e molto interattivo, una conferenza scenica. Perché organizzarla? Raccontiamo le api per diversi motivi. Il primo è perché raccontano una storia meravigliosa. Il secondo perché raccontano la storia di questo territorio. Le api sono degli insetti che monitorano, che salvaguardino l'ambiente e proprio qua esiste un progetto coordinato da Marche Multiservizi e controllato dall'Università di Urbino proprio per salvaguardare il nostro ambiente. Esistono cinque arnie nell'impianto di Ca e Lucio che sono usate proprio per controllare la salubrità dell'ambiente. L'app effettua 10 milioni di microprelievi al giorno. Quindi se qualcosa non va nell'ambiente, ebbene questa cosa si ripercuote nell'alveare. Quindi quando sentiamo il ronzio di un'ape possiamo stare tranquilli. Il nostro ambiente è sano. Sì, è un progetto veramente significativo perché con un metodo così naturale che la natura ci ha dato per controllare il nostro ambiente. Credo che questo progetto che è stato messo in campo da Marche Multiservizi in collaborazione col Comune di Urbino, col Comune di Tavuglia che sono sedi di discarica e l'Università che collabora a questo progetto, veramente significativo. Io ho già assistito alla presentazione, quindi alla serata di Tavuglia. Veramente bello capire quanto veramente possa essere veritiero oltre ai controlli normali che si fanno con gli strumenti tecnologici, ma veramente le api sono un elemento di valorizzazione in più della salubrità dell'ambiente. Questo ciclo di conferenza è partito proprio da Tavuglia. Un aspetto importante, come abbiamo ricordato poco fa, l'ambiente è considerato a tutto tondo. Si parla sempre di evoluzione della tecnologia, dei nuovi strumenti di misurazione del benessere e della qualità ambientale. In questo caso torniamo a quello che la natura già aveva previsto, degli animali che per loro natura vengono definite sentinelle dell'ambiente. Quindi noi come sindaci abbiamo accolto questa iniziativa con molto entusiasmo, perché chiaramente se le api vivono in questi contesti e producono il loro prodotto, il miele, significa che stanno bene e se stanno bene le api stiamo bene anche noi. Come nasce questo progetto dove protagonisti sono le api? Un progetto molto ampio che parte ora. Nasce dall'attenzione di Marche Multiservizi a quello che è la tematica ambientale, alla sostenibilità ed è la volontà di dimostrare ai cittadini, alle amministrazioni e quindi al territorio nel suo insieme il fatto che comunque gli impianti non sono assolutamente dannosi ma possono convivere. Bisogna farli bene, bisogna gestirli bene, ma oltre a tutti quelli che sono gli esami, le analisi, i controlli previsti per legge anche dal punto di vista tecnico di laboratorio, abbiamo pensato anche ad un progetto bio. È un bio monitoraggio che facciamo attraverso questo progetto nelle due discariche e molto probabilmente lo replicheremo anche in altri impianti, proprio dimostrazione del fatto che Marche Multiservizi ha molta attenzione all'aspetto ambientale e lo vuole dimostrare nel modo più semplice e naturale possibile. Abbiamo pensato di coinvolgere inizialmente questi due comuni perché sono siti delle discariche e ovviamente il coinvolgimento dell'Università di Urbino è proprio teso ad avere anche un soggetto terzo in grado di monitorare questo aspetto. In questi anni abbiamo scoperto che le api appunto non fanno solo miele, ma come abbiamo sentito sono delle sentinelle, dei sensori sulla qualità dell'ambiente. L'Ateneo è impegnato sui temi della sostenibilità, in particolare anche di quella ambientale, quindi siamo stati molto contenti di essere stati coinvolti in questo progetto tramite dei nostri colleghi di area scientifica, proprio perché appunto ci teniamo da un lato a capire appunto quali siano le condizioni generali dell'ambiente e dall'altro se possiamo anche contribuire con anche delle eventuali soluzioni di natura tecnica, scientifica.